Musica Potrebbe conoscersi oggi il nome del commissario prefettizio che dovrà amministrare il Pincio fino alle prossime elezioni, potrebbe essere una donna. Il sindaco Roberto Bacheca è stato iscritto sul registro degli indagati relativamente all'indagine che ha portato al sequestro dell'ecocentro. Bacheca, suono tranquillo. Calcio promozione Salvatore in Corvaia è subentrato al dimissionario Marco Galli, è lui il nuovo tecnico del CPC. Ben trovati dal Tg Alto Lazio, dovrebbe essere nominato proprio oggi il commissario prefettizio che si dovrà occupare di traghettare la città verso la prossima campagna elettorale. Tutti i raguagli nel nostro servizio. Dovrebbe essere nominato oggi il commissario prefettizio che si dovrà occupare di traghettare il comune di Civitavecchia fino alle prossime elezioni, che molto probabilmente si svolgeranno in primavera. E da voci di corridoio di Palazzo del Pincio dovrebbe trattarsi di una donna. Ad affiancarla, nel duro lavoro che l'attenderà, dovrebbero esserci anche due sub-commissari. E se da un lato c'è quasi certezza per la nomina che dovrebbe avvenire oggi, non si conosce ancora la data del suo arrivo a Civitavecchia. Una cosa però sembra certa. Il lavoro che attende il commissario sarà duro e faticoso, con i dipendenti di HCS Sotti in prima fila e già pronti insieme alle organizzazioni sindacali a chiederle un incontro per trovare una soluzione ed evitare il fallimento della holding e dunque anche il licenziamento in massa di circa 400 dipendenti. Un salvataggio che, come più volte ripetuto dal sindaco Tidei, è indispensabile per salvaguardare anche le casse del comune ed evitarne il dissesto finanziario. Intanto in città inizia a respirarsi aria da campagna elettorale. Mentre tutti i cittadini aspettavano luminarie e alberi di Natale, iniziano a movimentarsi fotografi, tipografie e attacchini. Moscherini ha già lanciato il suo progetto di larghe intese bis. Tidei ha annunciato che il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra sarà sicuramente del PD. E forse sarà proprio lui, come annunciato addentro la notizia e durante l'assemblea pubblica su HCS. Mentre i 5 Stelle ritengono che la nuova lotta elettorale rappresenti una vera opportunità di cambiamento. Insomma, Civitavecchia si prepara ad affrontare la quarta campagna elettorale fra amministrative 2012, regionali 2013 e nazionali 2013, in soli 18 mesi. Decisamente troppe. E da Palazzo del Pincio fanno sapere che il commissario prefettizio è stato già nominato. Si chiama Ferdinando Santoriello, nominato anche un subcommissario che lo affiancherà nel traghettamento del comune verso le elezioni. Si tratta di una donna, Raffaella Moscarella. I commenti a caldo dei delegati Celani e Pascale esprimono profondo ramarico per gli avvenimenti di lunedì e ringraziano l'ormai ex sindaco per la disponibilità di questi anni. Ma se la politica è l'arte della mediazione dell'incontro, della via di mezzo, perché si arriva sempre a questi gesti plateali? Si chiede Carla Celani. Ho visto i consiglieri con visi sorridenti. Ridere per cosa? Per quale vittoria? C'è qualcuno che ha vinto, non certo i cittadini, che hanno compiuto il loro dovere andando a votare pagando le tasse. Ora sono gettati nell'incertezza. Concordo a Mario Michele Pascale che con una metafora marinaresca suggerisce che la giunta sia durata troppo poco per un giudizio complessivo. Un corretto giudizio sull'attività amministrativa di un sindaco e della sua squadra di governo ha bisogno di più tempo. E a mio avviso gli scogli su cui è avvenuto il naufragio non erano poi così perigliosi. Gente di mare esperta avrebbe saputo evitare il pericolo. Dispiace che gli ufficiali abbiano celato le scialuppi anzitempo lasciandosi prendere dal panico. Diversa la posizione di Pasquale Marino, esponente del centrodestra, che sostiene Ce lo dovevamo aspettare, bastava girare per le vie della città per sentire lamentele unanime che non lasciavano scampo ad altre decisioni. Conclude poi con un appello al centrodestra affermando che in vista delle future elezioni è ora di mettere da parte in comprensione personalismi per preparare una coalizione forte con un candidato a sindaco forte per riprendere in mano la città e risolvere i tanti problemi lasciati in sospeso. Luciani vende la città a Moscherini vergogna. Queste le scritte dei manifesti apparsi in città già alle var del sole, manifesti carichi di rabbia nei confronti di chi ha determinato la caduta del sindaco Pietro Tidei e della sua amministrazione. Manifesti che arrivano poche settimane a distanza da quelli che invece si prendevano burla del primo cittadino, affiancato anche in quella occasione al leader dell'opposizione Gianni Moscherini. Ma sentiamo per tutti i raguagli il nostro servizio. Dopo i manifesti satirici di Tidei e Moscherini apparsi misteriosamente in città qualche settimana fa, ora tocca invece a Luciani e Moscherini. Nessuna foto questa volta, solo una scritta è anche poco satirica. Anzi, carica di rabbia nei confronti di chi ha determinato la caduta dell'amministrazione Tidei. Luciani vende la città a Moscherini vergogna. Una frase che lascia poco all'immaginazione. Ignara l'identità di questa notte abbia fatto un tour della città per tappezzare le strade. Sono una firma, i disoccupati di Civitavecchia. E non sono pochi. Un primo effetto della caduta del sindaco, l'inizio di una campagna elettorale che si preannuncia più infuocata di quella del 2012. Ora bisognerà vedere quale sarà e se ci sarà una reazione da parte dell'ex vicesindaco del leader dell'opposizione Gianni Moscherini. Anche se in realtà una prima reazione c'è già, visto che poi stamani sono comparsi altri manifesti scritti a mano, dove si legge Civitavecchia liberata, finalmente Stalin se ne è andato. Questo però senza alcuna firma. Quando in città fecero capolino i manifesti che si prendevano burla del sindaco Tidei, lo stesso primo cittadino infatti aveva indetto una conferenza stampa per stigmatizzare il comportamento di chi aveva imbrattato i muri della città. Ma non solo, Tidei aveva subito dato mandato al comandante della polizia locale e ai suoi uomini di ripulire i muri da quei manifesti, sanzionando immediatamente i trasgressori. Chissà se ora saranno presi gli stessi provvedimenti. E tra manifesti e interventi al vetriolo nei confronti di chi ha determinato la caduta della giunta e da parte di chi si è invece sentito tradito al punto di dover fare questa scelta, il Partito Democratico ha deciso di indire un'assemblea pubblica sulla crisi amministrativa. Oggetto dell'incontro? La città tradita, restituiamo la verità ai cittadini. L'appuntamento è fissato per venerdì alle 17.30 all'Aula Pucci. A presidere l'incontro sarà il segretario del PD, Clemente Longarini, interverrà il sindaco Pietro Tidei. I dipendenti di HCS e SOT si preparano allo sciopero dei servizi, qualora infatti i liquidatori non dovessero provvedere al pagamento degli stipendi entro oggi. Sindacati e lavoratori annunciano di bloccare tutti i servizi, anche senza alcun preavviso. E questo è il risultato dell'assemblea molto concitata, che ha avuto luogo ieri pomeriggio alla Pucci e che ha visto anche la partecipazione non tanto gradita degli esponenti di Selle e del sindaco Pietro Tidei, i particolari nel nostro servizio. Un incontro in regione, il pagamento entro domani degli stipendi o si andrà verso lo sciopero dei servizi. È il risultato dell'assemblea molto animata su HCS di questo pomeriggio, dove non è mancato una via crucis improvvisata di politici. Dall'ex vice sindaco Enrico Luciani e gli ex consiglieri vendoliani, contestati e additati come responsabili del guaio che HCS dovrà ora vivere, e della caduta dell'aggiunta, fino ad arrivare al sindaco Pietro Tidei, che ha convocato per domani alle 15 un incontro con i liquidatori di HCS delle SOT per fare il punto della situazione e trovare il modo per pagare gli stipendi di dicembre con annesse tredicesime. Alle 16 poi una nuova assemblea pubblica con i lavoratori per informarli di cosa accadrà. A quanto pare infatti i liquidatori di HCS avrebbero già versato nelle casse delle SOT i soldi per gli stipendi, soldi che i due liquidatori di Argo e Città Pulita vorrebbero usare per pagare l'IVA e non per i salari. Se così fosse, hanno tonati i sindacati CGL, CISL, UIL e USB, li denunceremo perché esistono delle leggi che vanno rispettate. Animi accesi quelli dei lavoratori più che comprensibili per la compagine di SEL. L'assemblea, ha spiegato Mauro Mei, risentiva di un clima pesante che si sente in città, ma siamo riusciti a fare un passo avanti. Infatti l'ex vice sindaco Enrico Luciani ha annunciato che il capogruppo SEL in regione, Gino De Paulis, ha incontrato già ieri l'assessore al lavoro Lucia Valente, disposto sin da subito ad incontrare i sindacati. E tra chi contestava c'era anche chi ha stretto la mano ai rappresentanti di SEL, sostenendo la scelta fatta. Il sindaco Tidei è invece tornato a puntare il dito contro chi lunedì ha impedito la celebrazione del Consiglio Comunale, che avrebbe dovuto deliberare la Tares. In questo modo si sarebbe potuto effettuare una variazione di belancio, così da spostare 10 milioni già a nostra disposizione, da un capitolo all'altro, permettendo un'anticipazione di cassa per il pagamento degli stipendi e dell'IVA. Ora invece è tutto bloccato, e il pagamento degli stipendi di novembre dovrebbe essere garantito da alcuni fondi che Enel forse verserà direttamente nelle casse di HCS. Preoccupata per la situazione di HCS anche l'UGL, che ieri sera ha inoltrato un'istanza ai liquidatori per l'immediato pagamento degli stipendi e per un incontro con il nuovo commissario straordinario. Miriam e i fatti spiegano e non alle chiacchiere. Intanto è previsto per oggi alle 15 il vertice tra il sindaco Pietro Tidei, i liquidatori e gli amministratori di HCS e SOT. Alle 16 invece è convocata una nuova assemblea pubblica all'Aula Pucci. Cambiamo argomento all'indomani del sequestro dell'ecocentro della Perrazzetta da parte della Guardia Forestale, su disposizione della procura di Civitavecchia. Il sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, è stato indagato. L'area infatti non sarebbe a norma. Come sentiamo nel servizio? Il sindaco Roberto Bacheca è stato raggiunto da un avviso di garanzia emesso dal procuratore capo di Civitavecchia Gianfranco Amendola. Il capo di imputazione è quello di omesso controllo nella gestione dell'ecocentro della Perrazzetta. Il 21 novembre scorso, infatti, gli uomini della stazione di Civitavecchia della Guardia Forestale avevano posto i sigilli proprio all'intera isola ecologica, una sorta di deposito comunale dei rifiuti ingombranti e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. Secondo la procura, l'ecocentro non è a norma, così il maresciallo capo della Forestale, Salvatore Verzilli, ha notificato l'atto al sindaco Bacheca che già nel 2008 era stato raggiunto da avviso di garanzia per la stessa motivazione e quindi nel momento in cui il primo cittadino verrà chiamato a rispondere su questo reato i due provvedimenti giudiziari verranno unificati. Ho parlato con il mio avvocato, ha spiegato con tranquillità Bacheca e mi ha assicurato che non ci sono grossi reati ambientali. In fondo, quando si è sindaco, si deve fare una scelta e decidere se continuare a far funzionare un importante servizio come la raccolta dei rifiuti ingombranti e quindi assumersi il rischio di essere indagato oppure essere complice di chi abbandona materassi e suppelletti lì in mezzo alla strada. Io ho scelto di tenere aperto l'ecocentro anche se non era proprio a norma. Il primo cittadino accusa apertamente le opposizioni per questo provvedimento. Ringrazio gli amici del PD ed in particolare il suo segretario ha infatti aggiunto che hanno presentato la denuncia alla procura. Hanno perso le elezioni e quindi l'unico sfogo è quello di fare le denunce. Sul futuro dell'ecocentro, il sindaco afferma stiamo aspettando l'autorizzazione della Regione Lazio per l'utilizzo degli spazi, ha concluso. In merito alle norme paesaggistiche ed archeologiche, quando avremo approvato il bilancio daremo l'incarico per concludere i lavori dell'isola ecologica perché i 25 mila euro che doveva darci la provincia li anticiperemo noi. Tra otto giorni l'ecocentro sarà concluso e tutto tornerà alla normalità. Importante consiglio comunale, quello di sabato a Tarquigna. Tanti punti all'ordine del giorno che saranno discussi. L'approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015, la ricognizione dell'area e dei fabbricati da destinare alla residenza, all'attività produttiva e terziarie, la determinazione dei relativi costi di concessione e cessione, il piano di valorizzazione e di smissione degli immobili di proprietà comunale, e ancora l'approvazione del programma degli incarichi del lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per il 2013, e la quantificazione del relativo tetto di spesa, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 2013, e poi l'esame e l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, e del bilancio pluriannale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, l'incremento delle risorse e decentrate variabili 2013 su un potenziale accrescimento qualitativo-quantitativo dei servizi, lato di indirizzo sulla Tarquinia Multiservizi. L'appuntamento è previsto per le 8.30. Il comando della forestale di Manziani insieme al servizio veterinario dell'ASL Roma F ha rinvenuto nei giorni scorsi a Bracciano 29 cani di varie taglie e razze costretti in strutture non idonee e detenuti con metodi non adatti a loro fabbisogno ecologico ed etologico. La maggior parte versava in evidenti condizioni fisiche precarie, alcuni affetti da gravi patologie. È scattato l'immediato sequestro degli animali affidati in custodia e due canili romani. Sono in corso ulteriori indagini. E cambiamo decisamente argomento, passiamo allo sport. La classe dirigenziale calcistica della compagnia portuale di Civitavecchia annuncia il nuovo tecnico della prima squadra. A guidare i rossi dalla dodicesima giornata in avanti nel campionato di promozione sarà Salvatore Incorvaia. L'identikit del dopo Marco Galli prevedeva un tecnico esperto della categoria in grado di trasmettere la tempo opportuna per affrontare il proseguio della stagione con audacia, tentando magari un'epica scalata al vertice. Ormai è chiaro, l'obiettivo dei vertici societari del club portuale serve innanzitutto a benegazione e senso del sacrificio. La vetta del girone A è al momento un miraggio, ma con 19 partite da giocare, una Coppa Italia da portare avanti, senza porre limiti alla provvidenza, tutto può realmente accadere. Salvatore Incorvaia poi destò agli occhi di tutti gli addetti ai lavori, grandi impressioni, quando al Tolfa dei vari palassini, Orchi e Danilo Boriello, parliamo sempre di promozione, diede un'impronta solida e concreta. Ciò che in verità ad una compagnia portuale densa di qualità è mancato sino ad ora. E ancora calcio, è un ladispoli ridotto all'osso, quello che oggi affronta il Colle Ferro, al campo Andrea Caslini, con calcio d'inizio previsto per le 14.30. Si gioca la gara di andata dei quarti di Coppa Italia per i club di eccellenza. Una vittoria e una sconfitta per gli snipers di Serie B, il secondo team del CV Scouting, che parteciperà al campionato amatoriale. La formazione voluta dalla società di Patron Mercuri per dare più spazio ai giovanissimi e alle vecchie glorie, ha perso domenica mattina contro il Genzano per 7-5 e vinto l'amichevole seguente con il campo marino per 10-3. Ma questa è l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.